amici del lago big fish ma soprattutto amiche del lago big fish 2 buongiorno a tutti siamo in sponda ovest oggi 2 giugno con amico thomas e guardate ma guardate ma cosa ha preso thomas con una salamandra in mezzo agli erbai guarda stielo su bravissimo scrive un bass nato qui sono bass veri nati qua questo avrà due anni abbondanti tac bene thomas come sta andando la cosa il primo il primo bravissimo bravo thomas tanto adesso andare avanti nel pomeriggio verso sera è un bombardamento qui c'è il suo amico che si chiama lorenzo invece lorenzo tu quanti ne hai presi 8 grande lorenzo bravo bravo bravissimo bene ragazzi anche oggi il big 2 ha dato ha dato diversi bass in mattinata soprattutto sono tantissimi bassettini piccolini appena nati ve lo fate vedere anche ieri guarda che ce n'è milioni anche qua bene noi aspettiamo tutti i giorni dalle 8 al tramonto qui al big 2 e adesso ve lo posso dire il 24 sabato 24 ci sarà una grandissima in missione di bass e striped bass e domenica 25 mega giornata in collaborazione con il grande linone di profisce di imola giornata dedicata alla pesca al bass con i bass nuovi quindi sarà un bombardamento perché con i nuovi sono bass che si fanno prendere da tutti o quasi con grigliattona a pranzo quindi una giornata veramente spaventosa bene ragazzi noi aspettiamo qua tutti i giorni e ci lasci con una frase d'effetto dovete venire tutti e qua da big fish 2 non so troppo no sembra poi sembra finta vabbè comunque va bene grande grande ragazzi siete spaventosi